Dal 14 al 16 agosto Urbino, città patrimonio dell'UNESCO e fulcro del rinascimento italiano, vestirà nuovamente i preziosi abiti di corte per la 34esima edizione della festa del Duca, in un fine settimana ricco di spettacoli rinascimentali, teatro di corte, musiche e danze quattrocentesche, mostre, laboratori e tanto altro ancora per ricordare lo splendore del Monte Feltro. L'intero centro storico tornerà indietro nel tempo per far rivivere la quotidianità quattrocentesca. Rigorosamente in costume ed epoca le truppe del Signore del Monte Feltro per i vicoli e le salite del centro, dove si esibiranno colorati sbandieratori di Sansepolcro, musici con ghironde e danzatori in coreografie rinascimentali, mentre il corteo storico accompagnerà verso i momenti centrali della festa. Per noi la festa del Duca è un pretesto per evocare tutto il ricco lascito culturale e dell'artigianato artistico che nel nostro Monte Feltro e anche nel Monte Feltro storico perché ci sono artisti che arrivano da una zona estesa non soltanto qua della nostra provincia ma anche da Rimini, da tutto quello che era il Monte Feltro storico. Quest'anno, vista l'enorme affluenza dello scorso anno, l'amministrazione ha voluto puntare forte su questo evento centrale nell'estate orbinate, raddoppiando l'offerta di spettacoli e intrattenimento. Questo è un appuntamento delle mese d'agosto più importante. L'anno scorso ci sono stati flussi di presenze che hanno sfiorato gli 80 mila visitatori e quindi quest'anno abbiamo spalmato tutti i mercati storici nella città quindi per offrire ancora di più al turista e catturarlo, impressionarlo con la speranza che poi ritorni a Durbino. Cuore della manifestazione è la rievocazione storica dedicata all'ingresso del duca Federico nell'ordine della giarrettiera, la più alta carica inglese avvenuta nel 1474. Da alcuni anni noi come associazione abbiamo preso come punti di riferimento delle nazioni ospiti. Quest'anno è stata scelta l'Inghilterra perché, molti sapranno già, nel periodo di Federico da Montefeltro, l'Inghilterra con l'allora signoria Durbino ha avuto dei grandi rapporti che si sono protratti anche nel tempo con soddisfazione da entrambe le parti.